ora passiamo a vedere una delle caratteristiche di questi software che è più importante quella che fa risparmiare più tempo che solitamente però è sconosciuta ai più andiamo a vedere parleremo di stili di testo per questo vi faccio vedere il mio schermo ecco il nostro LibreOffice facciamo questo piccolo esempio immaginiamo di avere un professore cattivo che ci dice guardate il vostro testo va bene come contenuto ma adesso dovete formattarvelo con queste tipo di caratteristiche che vi ho dato io e quindi dovete farlo immaginate di avere un testo almeno una ventina di pagine insomma una cinquantina una tesina bella corposa allora cominciate a fare il lavoro come normalmente un utente medio di un work processo opera cioè con la formatazione diretta basta utilizzare gli strumenti qua sopra andiamo a vedere vi do io quelle che sono indicazioni del profe cattivo che sono io allora il titolo è un metropolis vado giù devo cercare il mio metropolis ecco lì il nostro metropolis è un grassetto ed è un 18 e qui mi sono cavata però vedo che qua sotto ho dello spazio e lo spazio grosso modo è 0,42 sopra e 0,42 sotto allora vado nel formato vado in paragrafo vado a vedere le spaziature e vado a vedere la distanza come dicevamo sopra è circa 0,4 cm e sopra e sotto scusate è un millimetro glielo do e la cosa comincia a somigliarci adesso andiamo a vedere il corpo del testo il corpo del testo lo seleziono e vado a mettere un sabon ce l'ho già qua comodo perché ho visto che ci ho messo una vita prima è un 12 mi va bene però qua c'è un rientro e anche un distacco per ogni tipo di inizio di paragrafo quindi vado a settare queste cosine qua tra l'altro l'interlinea è un 120% allora anche lì vado in formato paragrafo o tasto destro vado direttamente a paragrafo paragrafo mi si apre questa finestra di dialogo e mi dice allora intanto vediamo l'interlinea l'interlinea è proporzionale e come abbiamo visto nelle regole del giorno 1 il 120% è ottimale vediamo qual è dopo il primo e dopo del testo il rientro non c'è ma c'è nella prima riga ed è circa un 0,50 mentre sopra il paragrafo mi sembra che sia adesso lo guardo un attimo solo sotto il paragrafo è 0,25 e do l'ok ecco adesso abbiamo fatto praticamente una formatazione che è simile però se notate alcune parti dei paragrafi sono sottolineati per cui vado a beccare questa frase e la metto in grassetto non si fa il grassetto così ma tanto non usirete più la formatazione è diretta dopo questa lezione spero andate qua e vi fate la stessa roba finito il gioco allora ci ho messo un po' però certo se dovessi farlo per tutta la mia tesina è un po' lunghetta spero che lo facciate man mano che lo scrivete anche se in realtà la formatazione viene sempre dopo il contenuto allora seconda pagina stesso problema lo faccio risolvendo con gli stili allora prima di tutto vado a aprire questa barra laterale dove mi dice dove sono gli stili se non l'avete fuori assolutamente formato scusate visualizza e andate barra laterale contro l'f5 allora titolo vado qui e clicco due volte sul titolo 1 e questo è già fatto vado a beccarmi il mio testo e vado sul corpo del testo lo clicco due volte ecco questo è già finito adesso mi mancherebbe solo alcune di sottolineare meglio di rendere grassetto alcune parti del testo allora intanto vado a beccarle una è questa potrei fare anche tutto in un colpo per fare un po' il fighetto tipo così premendo control e quando si tratta di parti di paragrafo e non di interi paragrafi non si utilizzano gli stili di paragrafo ma si utilizzano gli stili di carattere cioè che sono solo per parti più piccole e vado a cliccare due volte su enfasi forte fine gioco questo è molto più veloce come avete visto ma vi faccio vedere il vero vantaggio di tutto ciò allora il prof è cattivo dice adesso che l'ho visto sai cosa adesso dovresti aumentare il titolo di un po' ma anche il corpo del testo fallo 13 e poi non si vede molto questo tipo di sottolineatura cambiamoci colore lo fai così per tutte le tue 40 50 centinaia di pagine e diventa un lavoro di ore di giorni sperando poi che il prof piaccia allora andiamo a vedere invece come sarebbe più facile utilizzando uno stile di testo che ho utilizzato anche per quello di prova quindi potete già vederlo anche qui contro uno che avete formattato in maniera normale cioè con la formattazione diretta allora la cosa sarebbe molto semplice perché come potete capire vado negli stili di paragrafo vado a vedere il titolo avevo dato qui sopra se cliccate vedete che date sopra vi ricorda che avete dato il titolo 1 lo cambio vi appare una finestra di dialogo che è simile a quella del paragrafo posso dirgli anche il tipo di carattere dico guarda un po' più ciccione semplicemente di questo vedete già che è più grosso quello in alto è un corpo un corpo maggiore di quello sotto stessa roba posso fare sul corpo del testo tasto destro cambio il corpo del testo e invece di dargli un 12 gli do un 13 eccolo qua questo non l'ha toccato perché l'avete fatto quel metodo lì ma immaginate che qua abbiate 50 pagine tutto rimane uguale stessa roba qui guardate qua diamo al lo stile di carattere enfasi forte tasto destro cambia invece di dargli un colore automatico in case un nero diamogli un colore che veramente bruci gli occhi un bel rossone diamogli così automaticamente tutte le 50 pagine si sono aggiornate in un secondo e avete tutto aggiornato quindi una volta che avete utilizzato questo tipo di strutture voi potete cambiare completamente la vostra formazione veramente in due minuti quindi questo è il grande vantaggio degli stili di testo sia di paragrafo che di carattere dopo open office libre office scusate writer anche open office della verità altri tipi di stili anche per gestire le cornici soprattutto quelle delle immagini quello degli stili di pagina perché potete avere più tipi di pagina ad esempio orizzontale verticale nello stesso formato gli stili di elenchi gli stili di tabella però quello che mi interessa che capiate sono questi due gli stili esistono anche in word office word e esistono in una parte solo di paragrafo per una parte molto più basic e anche in google document quindi utilizzateli dopodiché la cosa bella è che questo tipo di stili vengono mantenuti anche in software un po più evoluti dal punto di vista grafico come ad esempio i desktop publishing quindi una volta che avete utilizzato gli stili dovete assolutamente continuare a farlo una volta imparato veramente non dovreste più tornare indietro dopo aver visto l'utilità degli stili andiamo a vedere come gestirli eccoci di nuovo nel mio nel mio computer andiamo a vedere questo è il solito testo inizialmente e vediamo come gestire gli stili ora prima di tutto bisogna tirare fuori quella che è la barra laterale che se non avete ricordo sempre vuol dire che l'avete spenta andate in visualizza bar laterale o contro le f5 la ci premete sopra sul pulsantino nero eccolo qua e viene fuori tutta la barra per chiudere altrettanto per aprirla in maniera automatica basta cliccare non sul pulsantino nero ma sempre sulla colonnina o sulla parte bianca in modo che quando andate dall'altra parte no la vedete più io la apro in maniera che rimanga aperta costantemente la cosa più importante che di questi sei pulsanti andate sul quarto partendo dall'alto e di questi qua sul primo partendo da sinistra altra cosa che vi dovete aver notato è che io adesso qua vedo dei margini e dei caratteri nascosti perché ho premuto questo pulsantino che è proprio appunto quello che mi fa vedere i segni di formatazione ad esempio e potete utilizzarlo anche con contrasti 10 ad esempio vedete che a fine del titolo c'è questa specie di graffettone che non è altro che il simbolo di paragrafo ricordate che voi spesso per andare per creare degli spazi tra il titolo e il testo utilizzate dei paragrafi non fatelo come abbiamo visto ci sono gli stili ecco altro carattere nascosto è il puntino che definisce il vostro spazio e allora definiamo il paragrafo il paragrafo è il testo che è compreso fra due di queste graffe quindi questo è cos'è un paragrafo e qui stiamo andando a modificare un intero paragrafo quindi quando noi modifichiamo gli stili di paragrafo tutta sta parte qua è possibile andare a capo senza creare un paragrafo si si chiama un semi a capo basta premere la shift la maiuscola quando andate a capo ecco in questo caso qui vedete che non è più una graffa ma è questa specie di freccettina questo mi definisce la capo senza dover cambiare paragrafo e quindi lo stile di paragrafo quando lo clicco qua arriverà fino a lì può essere utile soprattutto quando ho fatto degli eventi andiamo a vedere cosa come si gestisce appunto lo stile di paragrafo allora partiamo da questa finestrina c'è uno stile predefinito perché perché gli stili sono messi in ordine gerarchico o meglio questo stile qua ciccione iniziale contiene tutti gli altri tutti gli altri prendono qualcosa in eredità come fosse il nonno cosa diamo di solito al nonno lo stile predefinito di solito si dà proprio il tipo di carattere cosa che vedrete gara un po qualche nipotino tipo il titolo che di solito invece vuole essere un po più autonomo anche da quel punto di vista allora andiamo a darlo al nostro stile predefinito tasto destro cambia vi aprirà una finestra di dialogo andate qua tra tutti questi sul tipo carattere andate a scrivere nel mio caso cancelliamo un sabò il sabò 12 mi va bene e tacete ma voi avete visto qua se è fregato altamente perché perché non abbiamo mai definito e non abbiamo mai detto questo a quello stile predefinito allora intanto andiamo a vedere lo stile predefinito qua da questo stile sabò adesso a tutti questi a parte il titolo che sono sempre un pochettino abbiamo visto un po più anarchici la cosa che mi interessa di più è dare il corpo del testo a qua ce ne sono molti anche nel corpo del testo c'è tanta roba e questi stili qua sono non potete cancellare non potete cambiare il nome perché sono quelli predefiniti però potete se vi danno fastidio ad esempio tasto destro su questo nasconderlo e se volete andare a vederlo poi andate semplicemente da qua e ditegli di vedere gli stili nascosti tipo qui il stile nascosto adesso è la firma e chiaramente potete anche fare in mostra per farlo tornare vivo io torno in gerarchico e mi ritorno lì adesso abbiamo cancellato la firma che tanto non ci interessa nascosta scusa allora andiamo a vedere quello più importante che il corpo del testo allora tasto destro cambiamo adesso lui dovrebbe dirvi che ha lo stesso font perché perché certo nella gestione lo vedete l'ha ereditato dallo stile predefinito che era il vecchio nome torniamo a vedere alcune cose non mi interessa cambiargli il tipo di carattere mi interessa il tipo di spaziatura allora intanto mi interessa che prima del testo ci sia ogni questo riguarda del testo ogni paragrafo a meno che non mettiate questa cosa qui allora prima del testo e dopo il testo e rientro non lo voglio che la parte sinistra però nella prima riga un rientrino mi piacerebbe e mi gusterebbe molto quindi mezzo centimetro di rientro lo vedete anche qua nell'anteprima c'è la distanza sopra paragrafo mi interessa relativamente mi interessa molto di più quella sotto eo 0 25 potrebbe essere una cosa che mi gusta e qua se non volete aggiungere questi spazi qua ma solo questo spazio quando cambiate tipo di stile aggiungete sta roba io di solito non la utilizzo l'interlinea 1,15 righe mi piace di più in percentuale lo metto proporzionale abbiamo detto che la regola di solito per una buona grafica è il 120 per cento in teoria gli do ok e posso anche dire applica e finalmente ho applicato ma come sempre non vedo nulla finché non gli ho applicato questo stile e adesso il corpo del testo a questo testo come faccio allora prima di tutto e vi do un consiglio partite sempre dal testo che è più presente in questo caso è il corpo del testo quindi controlla e lo fate tutto e dopo di che andate a cambiare i singoli titoli fate questo lavorino qua come faccio a darglielo semplicemente ci clicco due volte sopra guardate vado divido in questi due paragrafi fa vedere anche due metodi andate sopra qui andate su un paragrafo o selezionate due paragrafi o selezionate tutto il testo e cliccate due volte sopra il testo e lo stile di testo viene applicato altra cosa soprattutto che fighetto per i titoli potrebbe essere usare il secchiello puntate il secchiellone e lo fate così qui potete farlo così ma tanto sappiamo che poi il titolo gli daremo un suo un suo vedete come fare con a stirarmi via questo eccolo qua tiro via ecco lì un suo stile di testo scusate allora adesso andiamo a definire proprio il titolo questo qua non è stile predefinito scusate ero sbagliato ecco lì era questo che dovevo prima per andare con il secchiello vi faccio vedere dovete prima cliccare su quello che volete dare e poi andare tiro via il secchiellone che mi dà fastidio sul titolo vado a definirlo il titolo anche qua ecco c'è una gerarchia quindi quello che do il titolo il tipo di testo che do il titolo dà anche tutti questi titoloni qua guarda quanti ce ne sono allora comincio subito lì vado in cambia questa volta come tipo di carattere gli do un metropolis metropolis eccolo qua mi va benone eccolo qua adesso cosa è successo tutti questi sono diventati metropolis lo vedete anche qua perché vi danno con anteprima non vederla se vi dà fastidio ma a me piace vederlo prima allora immaginiamo che il titolo 1 il titolo 1 giusto per vedere cosa succede ognuno di questi prende una caratteristica in questo caso il testo dal titolo dal papà non era quella prima era il nonno questo papà e dopo cosa cambia cambia alcune cose rientri spaziature di testo ma soprattutto la grandezza il corpo del testo in questo caso qua loro lo cambiano in percentuale perché di solito il titolo camera percentuale è possibile mettere tranquillamente anche la dimensione fissa non è importante e ve lo fanno in grassetto quindi ad esempio titolo 1 funziona quello lì a un 130 per cento di quello che era originale l'originale ricordo era un 14 allora andiamo qua clicchiamo due volte sopra e diamo il settaggio o meglio lo stile a questo titolino quindi per cambiare diventa molto facile adesso avete visto come gestire i vari stili io ricordo che di solito utilizziamo lo stile predefinito l'inizio il corpo del testo per il resto del corpo e poi i titoli che possono essere titolo 1 per i titoli di capitolo titolo 2 per quelli di sezione e poi sotto sezioni vari quindi sono in ordine di grandezza ce n'è anche un titolo principale che di solito si usa per il titolo della tesina allora andiamo a vedere come doveste aver capito cosa succede quando voglio cambiare solo uno stile di parte del paragrafo e non intero paragrafo e allora vado a cercare qualcosa più limitato lo stile di carattere la stessa cosa funziona qua questo eredita già tutti questi stili carattere ereditano già il font che avete deciso nello stile predefinito di cara di paragrafo quindi in teoria questi sarebbero già pronti ad esempio enfasi forte cosa fa cambiamolo andiamo a vedere lui prende uno stile che è ereditato da nessuno vuol dire che è ereditato proprio dall'alto in realtà non è ereditato nessuno di questi qui ma è quello che avete utilizzato nei paragrafi vi fa vedere ad esempio qui a scelta libera scelta vi da vedere che un grassetto è una dimensione normale tra gli effetti il colore carattere automatico cioè è quello precedente andiamo ad applicarlo come si fa applicarlo stessa cosa posso applicarlo o col modo riempimento o seleziono il testo gli clicco due volte ad esempio qui posso anche fare in questa maniera scusate posso farlo così quindi è molto semplice quindi una volta imparato come si applicano gli stili di paragrafo e stili di testo di carattere sono essenzialmente identici hanno solo un'influenza limitata a parti del testo come qua come abbiamo visto prima basta cambiarlo e andate a cambiare di colore facciamo un verdone al libro office eccolo qua e vi cambia dappertutto quindi questo è come si cambiano i due tipi di stili ricordo che tra l'altro gli stili di carattere esistono in microsoft office ma no microsoft office e non esistono però in google document vi ricordo solo che gli stili di paragrafo sono anche fondamentali per la creazione degli indici automatizzati che vedremo tra poco ora passerei invece ad un altro capitolo per cui riguarda gli stili cioè questo la formazione della pagina torniamo diretta e andiamo a vedere queste concine qua è la quarta concina degli stili ricordo sempre la quarta in basso quarta a destra andiamo a vedere quelli che sono gli stili di pagina andiamo a beccare lo stile predefinito perché è sempre quello con cui possiamo anzi dovremo iniziare in questo caso qua vedete è già dalla grafica non è un ordine gerarchico vero e proprio nel senso che lo stile predefinito non definisce nulla delle altre precedenti e un'altra curiosità delle pagine a differenza degli altri è che possiamo utilizzare sia la possibilità sia questa icona quindi questa scusate questa finestra per andare a definire lo stile di pagina e il formato perché a differenza di carattere paragrafo qua non c'è scritto pagina è scritto stile di pagina e quindi questo è il link diretto allo stile quindi la finestra questa se si apre è l'identica cosa allora prima di andare a settare la nostra pagina vorrei ricordarvi quello che abbiamo fatto ieri nello studio della griglia grafica per capire le dimensioni che necessitiamo utilizzare questa era la pagina che abbiamo definito con un metodo particolare con gli antition e ci dava questa questa pagina con queste margini è una 4 quindi 2 21 per 29 7 a un margine superiore di 3,3 centimetri sotto il doppio a sinistra 2,35 qui ci sono sono messi centesimi di centimetro e il doppio esattamente 4,7 sulla destra ricordo che il libro office questo è il testo che sarebbe il margine potete fare questi margine è il margine dove potete scrivere completamente il vostro testo ma anche se volete delle intestazioni e dei piedi pagine come il numero di pagina il libro office è compreso in questo margine noi invece vogliamo utilizzarlo solo ed esclusivamente per il testo per cui aumentiamo di un centimetro sopra dove scriveremo l'intestazione e un centimetro sotto dove scriveremo i nostri numeri di pagina quindi sopra non è più 3,3 ma 2,3 e sotto 5,6 torniamo a bomba nel libro office il formato ci va benissimo che sia la 4 quindi con questa larghezza verticale ma benone andiamo a vedere le pagine a sinistra abbiamo detto che era 3,3 centimetri a destra era esattamente il doppio se vi ricordate sopra era 3,3 però abbiamo detto che teniamo centimetro per lavorare con le nostre intestazioni sotto in basso invece abbiamo invece di 6,6 ma tiriamo via un centimetrino quindi 5,6 ecco un'altra cosa fondamentale da capire quando impostate questo stile intanto lo vedete qua e poi c'è layout di pagina va bene destra sinistra mica tanto perché io non vorrei che la pagina a destra mi va benone che sia così perché io voglio che il margine interno sia piccolo ma quella a sinistra in realtà vorrei che fosse specchiata ed ecco infatti come posso farlo in questa maniera ho esattamente le due figure specchiate i margini maggiori li voglio all'esterno posso dare applica se voglio vederlo inizialmente don ok perché comunque voglio andare a lavorarci direttamente questo era la nostra pagina iniziale quindi la vedete ecco una cosa che mi piacerebbe fare è cominciare aggiungere qualche pagina per questo punto di vista intanto vorrei andare a una vista a libro mi aiuta molto e non al 110 per cento ma una vista larghezza ottimale e non è molto ottimale ecco lì perché poche pagine cosa voglio fare voglio aggiungere un po di paginine quindi ad esempio mi copio titolo 1 voglio anche aggiungere del testo faccio te f3 mi aggiunge un po di testo qui adesso posso anche copiarmi un po il tutto questo è il titolo del capitolo iniziale questo è il titolo 2 del capitolo 2 potrei anche fare quel che mi riguarda il capitolo 3 chiaramente testo non è importante in questa fase qui giusto per farvi vedere come si vede questa visualizzazione ricordo questa è la visualizzazione a pagina singola questa è la vista libro mi interessa la vista libro perché poi anche dal punto di vista grafico magari ho bisogno di vedere e di fare delle composizioni grafiche che occupano le due pagine allora andiamo visto lo stile predefinito è questo andiamo a vederlo ancora ci sono delle opzioni particolari sì allora intanto andiamo a vedere riga di testazione riga di testazione la voglio sì l'abbiamo detto e come l'altezza avevamo detto un centimetro perché noi vogliamo bella massiccia scusate ho dato l'ok ritorno di cambio il centimetrone voglio anche il piedi pagina il piedi pagina anche qua lo attivo do un centimetro lo vedete da lì cosa posso fare ancora posso dire sia in riga di testazione piedi pagina due opzioni contenuto uguale sulle pagine a destra e sinistra no perché io voglio che l'intestazione contenga cose diverse secondo che sia sinistra che sia a destra contenuto uguale la prima pagina no 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 affatto la pagina è quella del fondo spizio non voglio la stessa intestazione il piedi pagina che per noi sarà dove mettiamo essenzialmente i numeri di pagine voglio che siano destra e sinistra no anche questo voglio che siano simmetriche contenuto uguale nella prima pagina manco questo perché la prima pagina di solito non va il numero ecco qua adesso finalmente siamo posto possiamo dare l'ok e come vedete non c'è nulla nei piedi pagina né intestazione perché perché basta andare qua sopra e vi appare la casella dei piedi dell'intestazione allora questa è una pagina destra e allora cominciamo a scrivere ad esempio qua scrivo il titolo della mia tesina le bufale altra cosa se io voglio che l'intestazione sia a sinistra la lascio lì se invece voglio che sia centrata basta un tab se invece voglio che sia a destra un secondo tab quindi le bufale vanno lì eccole qua questo è lo stile predefinito in teoria sulla prima pagina questa abbiamo detto che la prima pagina va da sola perché questa non va a inficciare le altre rimetto anche qui le bufale sulla pagina destra sono le pagine dispari eccolo qua e magicamente appariranno su tutte le pagine dispari se metto qua ad esempio il mio nome e cognome essendo una seconda pagina apparirà sempre sulla seconda pagina ripeto nella prima pagina non appariva quello che facciamo nella prima pagina è indipendente da quello che appare nelle altre pagine successiva perché abbiamo messo il flag non abbiamo messo il flag sulla opzione dentro lo stile predefinito altra cosa identica è esattamente quella dei piedi pagina e qui posso dire inserisci il numero di pagina eccolo qua francamente me lo voglio oh l'ho masticato lo deseleziono e poi me lo sposto e questo mi va bene anche qui faccio un inserimento del numero di pagina a questo punto abbiamo creato un po' l'impaginazione generale adesso andiamo a creare nuove pagine mi serve un frontespizio inizialmente c'è una copertina vedremo domani come fare la copertina però dopo la copertina non si va direttamente di solito nel testo puro invece si va nel frontespizio che è un po' diciamo un'anteprima o meglio una copia più che altro della copertina più pulita andiamo a crearlo creiamo nuove pagine ne creo due inserisci interruzione pagina si crea così nuove pagine non fate l'errore di andare a creare nuove pagine premendo l'enter vedete create solo paragrafi per farlo in maniera decente andate in inserisci interruzione pagina o control invio ne faccio ancora un altro contro invio perché mi interessa che ci sia un frontespizio e poi subito dopo la pagina bianca in modo che il testo inizi nella prima pagina a disposizione destra cioè la numero 3 cosa faccio? scrivo il contenuto in questo caso qua posso scrivere ad esempio il titolo bello in grandino e con magari uno spazio e dopo la cura di Simone Mantovani facciamo questo cosa succede ora? ora sto utilizzando uno stile predefinito di pagina per la prima pagina voglio qualcosa di diverso infatti c'è anche un formato uno stile meglio che si chiama proprio prima pagina qui ne ho cliccato due volte avete visto che i margini sono cambiati ma sono sparite anche le intestazioni e i piedi pagina andiamo a vedere col tasto destro cambia questa cosa qui infatti la pagina ha dei margini diversi uguali per tutto più centrati perché il frontespizio di solito è proprio quasi lapidario con tutto il testo centrato piedi pagina e righe di intestazione disattivati e questo è il risultato voglio andare però a cambiare lo stile di paragrafo il titolo uso il titolo principale che è bello centrello il sottotitolo qua poi ci starebbe bene un'immagine ecco di qua sono abbastanza posto non c'è niente di particolare tanto poi io non lo vedrò lo succede come una pagina bianca e poi inizia il vero e proprio testo cosa posso andare aggiungere posso aggiungere un indice crea una nuova pagina vengo qui in fondo crea una nuova pagina inserisci interruzione di pagina crea un indice facendo questo inserisci indice generale e analitico bibliografico viene fuori questa finestra di dialogo che vi dà la possibilità di capire anche che tipo di indice fare per adesso diamo un bel ok e la cosa funziona già se andate a vedere tiro via i caratteri nascosti qui mi fa vedere che ho tre capitoli titolo titolo 2 titolo 3 abbiamo nominati semplicemente così con le pagine posso andare direttamente anche alla pagina cliccando tipo titolo 2 col contro e clic cosa succede questo indice automatico ma se dovessi cambiare adesso le pagine quindi qualche maniera aggiungere delle pagine dovrebbe aggiornarlo proviamo andiamo a copiare un capitolone scusate 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 combinato andiamo a copiare un copia andiamo a copiare il nostro ah era qua perché l'ho nascosto da lì un capitolo l'ultimo anche al caso lì andiamo a ricopiarcelo e li cambiamo semplicemente il titolo 4 perché il titolo 3 esatto per una copia e ho visto che il mio indice generale in realtà fa poco non fa niente perché devo andare col tasto destro a dire aggiorno l'indice nel momento che lo aggiorno eccolo qui ha visto che c'è un capitolo nuovo con le pagine se avete notato i titoli questi qua sono definiti dagli stili che abbiamo utilizzato in realtà in questo caso qua c'è solo il titolo 1 se avessimo utilizzato delle sottosezioni col titolo 2 e 3 sarebbe apparso sottotitolo anche la sottosezione che ne so sezione 1.2 nel titolo 2 sezione 2.1 2.2 e così andare quindi l'importanza di definire gli stili di paragrafo è fondamentale poi per creare un indice ora dopo aver settato tutti i miei stili e settato anche la pagina ad è dovrei utilizzarlo vorrei utilizzarla in futuro senza dover riformattarli ogni volta questo è possibile salvando il file anche come modello in modo da poter utilizzarlo per le tesine future come si fa prima di tutto vado a cancellare il contenuto perché il contenuto in realtà non mi interessa per le future tesine per cancellarlo prima di tutto cancello l'indice perché l'indice se lo cancello io qua sto premendo il tasto cance mi viene fuori che è protetto da scrittura l'unico modo per cancellarlo è il tasto destro rimuovi l'indice dopodiché vado sul testo vado in modifica seleziona tutto lo cancello col tasto cance e mi resta solo la prima pagina in realtà qui vedete che il primo carattere è sotto quel titolo principale come stile di paragrafo in realtà mi piacerebbe che visto che è uno stile che uso poco utilizzare il corpo del testo quindi clicco due volte lì e questa è la preparazione a salvare il file come modello come si fa file salva una copia non più come odf ma come odt c'è modello di documento lo metto qui posso chiamarlo modello tesina 2020 che sono 21 eccolo qua me lo salvo e ora faccio finta di andare ad aprirmi un nuovo documento di testo che però non è basato con il solito modello di base di libreoffice ma il mio personalizzato e quindi vado da modello ecco qua dove mio modello qui vi si apre in realtà a voi un'immagine del genere questa finestra contiene tutti i modelli che è libreoffice vi offre all'interno del software potete andare a cercarne anche degli altri cliccando questo tastino qua in linea perché ci sono moltissimi gratuiti in giro se più vi piacciono però cercando quello mio devo andare a verificarlo non lo vedo qua perché perché per la prima volta quando lo usate dovete importarlo dentro la biblioteca di libreoffice quindi andate a premere il tasto importa selezioniamo una categoria che è una cartella io lo metto nei personalizzati per dividerlo da quelli normali vado a prenderlo sul mio computer lo apro e appare magicamente come primo quando ne avrò molti e voglio eliminare quelli di libreoffice vado solo nella mia cartella personalizzati lo apro mi si apre un file ogni tanto qua mi si gira la finestrona ed eccolo qui il nostro file iniziale che abbiamo salvato per cui io se faccio del testo ci metto anche andiamo pure ci metto anche un titolone posso già notare due cose intanto che tutto il testo è già in sabon 12 come corpo del testo e quindi quel proprio il mio vado vedere anche di metterci uno stile titolo che di solito il titolo 1 cosa succede sulle pagine se io vado a vedere questa è una pagina nuova c'è una prima pagina che magari qua facciamo utilizziamo da titolo ma già dalla parte la prima pagina già la seconda pagina ha esattamente le caratteristiche delle pagine che abbiamo visto precedentemente tra cui anche i numeri da una parte l'altra in realtà noi dobbiamo inserire sempre due pagine bianche ricordatevi c'è il frontespizio e la pagina bianca dopo e qua comincia primo testo dove partono esattamente tutte le caratteristiche che abbiamo visto precedentemente quindi salviamo come modello questa è la regola e quindi avete per sempre il lavoro salvato e riutilizzabile